Sindaco Settimio, Santilli dunque riconfermato alla carica di primo cittadino di Celano con uno scarto di 1741 voti. Santilli, direi un grande risultato per lei. Sì, assolutamente sì, perché la gente evidentemente ha creduto nella nostra credibilità ed affidabilità dimostrata in questi anni in cui abbiamo amministrato e soprattutto nelle nuove proposte che abbiamo fatto per i prossimi cinque anni. Cosa si sente di dire alla cittadinanza e ai cittadini di Celano? Innanzitutto grazie per aver espresso il loro voto in un momento storico non proprio semplice visto l'emergenza Covid. Soprattutto grazie di aver riposto di nuovo la loro affidabilità e la loro speranza nella nostra lista Una Città da Mare. Continuiamo insieme a far crescere Celano, questo è lo slogan della campagna elettorale. Lei continuerà a lavorare per far crescere questa città? Sì, è un percorso che abbiamo avviato nella passata amministrazione, è un percorso che deve essere assolutamente concluso. Abbiamo una visione delle criticità della città e soprattutto degli interventi più impellenti da fare. Quindi il percorso deve essere assolutamente continuato e soprattutto terminato in questi anni. Chi si sente di ringraziare oggi? Io mi sento di ringraziare innanzitutto tutti i cittadini perché hanno dimostrato che la democrazia evidentemente premia e ha avuto per l'ennesima volta la vittoria. Poi tutti i candidati nella mia lista perché è stata una lista che è stata votata alla grande dalla cittadinanza e quindi tutti i nostri sostenitori, gli amici e infine la mia famiglia.